Io vengo da una famiglia cristiana, praticante, quindi sono cresciuta in una famiglia cattolica. Poi come molti giovani, io dopo la cresima ho smesso di frequentare la chiesa, poi sono andata via di casa perché volevo fare l'attrice e i miei genitori non volevano. Ho vissuto in maniera abbastanza dissoluta, ho fatto anche delle scelte sbagliate, ho iniziato per esempio la mia carriera con un film trasgressivo e sono diventata molto conosciuta in Italia, ho cominciato a lavorare in televisione, in teatro. Stavo girando la scena di un film dove rispondevo al telefono e mi dicevano al telefono che l'uomo che amavo era in coma e quindi io dovevo in quel primo piano far vedere quanto lo amavo e quanto soffrivo per una notizia così grave. Non era difficile per me provare un'emozione e invece quella volta il cuore non rispondeva i miei comandi, cioè io non provavo niente e la mia coacher che conosceva la mia vita si avvicinò, io mi aspettavo che mi desse un consiglio tecnico per migliorare la scena e invece lei mi disse Claudia se non c'è verità nella tua vita come ci può essere nel tuo mestiere e io lì rimasi colpita perché lei mi aveva punta. Cioè voglio dire che il Signore piano piano ha cominciato a risvegliare la mia coscienza perché io quella sera tornai in albergo e cominciai a riflettere su come vivevo, se ero felice, se era giusto che tradissi e che cos'era questa libertà allora che io non avevo più, avevo vissuto sempre per cercare di essere libera, ero andata via di casa, avevo fatto sempre tutto ciò che volevo perché allora non ero libera di provare un'emozione autentica, questa cosa mi cominciò dentro a muovere, in realtà era il peccato che aveva indurito il cuore e che impediva al mio cuore di amare. Il Signore lo ha incontrato nei mesi successivi e proprio in maniera profonda quando sono stata attaccata da le forze del male, dal maligno. Il mal moral che è il peccato, la offenza a Dio, questo è il peor dei mali. Lo demás mali, i mali fisici, eccetera, possono convertire in mezzo per unire a Dio. Lo unico che non une a Dio è il peccato. Ora, incluso il peccato, se una persona se arrepiente, è impressionante, però può convertire in mezzo per acercarsi più a Dio, non per il peccato in si, sino per la umiltà e l'arrepentimento. Se le pido il perdono del Signore, Dio mi perdona e, dopo il peccato, posso essere più unito a Dio che prima. È una meraviglia, non? vorrà pensare. In questa mia vita dissoluta ero in peccato mortale. Ho cominciato a sentire una voce che si manifestò all'inizio dicendo che era un'attrice famosa, defunta. E quindi ho cominciato a parlare con questa voce, con questa entità. Ho scoperto poi un giorno la sua vera identità e quel giorno fu per me il momento dell'incontro con Dio. Avevo risposto al telefono e avevo discusso con la mia gente. La mia gente era una persona importante per me, a cui volevo bene, la gente cinematografica, ma lì non eravamo d'accordo su una cosa, quindi discutemmo. Quando tornai nella mia stanza, questa voce mi disse che la telefonata non era andata bene perché io non avevo odiato. E nel momento in cui mi disse odiare, io risposi, ma io sono fatta per amare. Perché anche se avevo sbagliato molto, soprattutto in amore, non essendo mai fedele, eccetera, però quello che io desideravo nel profondo del cuore era l'amore. Era sentirmi amata e amare, anche se non sapevo amare. E allora risposi direttamente, subito, io sono fatta per amare. E quando risposi così l'entità si arrabbiò e mi disse che era la morte che era venuta per uccidermi e quindi mi attaccò fisicamente. Anche se io non la vidi, però senti sul mio corpo una forza che prese entrambe le mie gambe e cominciò a stritolarle. E in quel momento mi sono spaventata perché ho capito che non era una finzione, non era un'illusione. E ho capito anche che non potevo fare niente da me stessa, cioè non mi potevo salvare. Non potevo pagare con i soldi e riuscire a liberarmi. Non potevo con gli amici importanti fare una telefonata e trovare una soluzione, anche perché era una questione di un attimo. Quindi, diciamo, non c'era tempo. Allora mi sono rivolta a Dio come faceva mia nonna. E ho detto, Signore aiutami. E l'ho fatto pregando il Padre Nostro e stringendo fra le mani un crocifisso che mi aveva regalato da pochi giorni un amico. Camminando su e giù per la stanza, cioè cercando di fermare questa forza che saliva lentamente e mi faceva molto male, ho gridato il mio Padre Nostro al Signore che mi ha liberata. Improvvisamente, ecco, questa forza è sparita. E ho sentito una grande pace che mi avvolgeva. E in questa pace io ho riposato, mi sono sentita come abbracciata, calmata da questa pace. Ma come non avevo visto l'entità, non ho visto neanche Dio. però l'ho respirato, nel senso che è nello spirito che ho avvertito la sua presenza. E gli ho chiesto, ma tu mi sei Padre. Perché io ho pregato il Padre Nostro, tu mi sei Padre. E poi gli ho chiesto perché l'hai fatto. Perché mi domandavo, ma io non lo merito, come mai mi hai aiutato. E allora questa gratitudine che c'era in me, perché io nel mondo ero abituata a ricevere solo se davo. Allora gli ho detto perché l'hai fatto, ti voglio conoscere. E così è iniziato il cammino della ricerca di Dio. Sono tornata in chiesa. E con i sacramenti sono andata alla Messa tutti i giorni. Il Signore ha cominciato a trasformare dal di dentro il mio cuore e quindi la mia vita. E poi a metterla in ordine. Perché c'era tanto bisogno di ordine nella mia vita. Grazie a tutti.